...lo spiritoso. È una moto d'alta cilindrata o me sbaglio? Non si sbaglia, è una moto d'alta cilindrata. E allora io credo che vada guidata con il casco, no? Sicuramente sì. Sicuramente sì. Invece a noi che fa? Ci piace prendere il vento nei capelli la mattina mentre andiamo al lavoro, eh? No, in che senso, scusi? Avanti.